Siamo di fronte ad una rivoluzione digitale che non coinvolge più solo i supporti e i mezzi di comunicazione, ma riguarda il nostro essere umani. Il virtuale è diventato una realtà solida, concreta, misurabile, economicamente promettente, ma con un grande bisogno di idee, di creatività e ancora di più di etica. Questo quanto emerso nell'incontro Il Metaverso, istruzioni per l'uso, tenutosi lunedì 28 novembre al Digital Innovation Hub di Confartigianato in Prese Vicenza. Abbiamo raccolto il contributo della Presidente del Sistema Comunicazione dell'Associazione, Roberta Cozza, e del relatore dell'evento, Luca Pianegiani. Vediamo. Confartigianato sta investendo tantissimo nella comunicazione di tutte queste nuove tecnologie e delle opportunità che si possono avere con la conoscenza di queste nuove tecnologie, di questo nuovo mondo. Non c'è da spaventarsi, anche perché una volta che si è approfondito, comunque con uscito l'argomento, dobbiamo vedere le opportunità che questo mondo ci può dare. Confartigianato, come dicevo, si sta impegnando perché la comunicazione avvenga per tutte le aziende e tutte le aziende possono avere questa possibilità di approfondimento e di conoscenza. Oggi, tramite Luca Pianegiani, che è nostro consulente da tanti anni, abbiamo messo il seme che poi dovrà sbocciare. Dovrà sbocciare non solo per le aziende della comunicazione, di cui io sono rappresentante, ma di anche tutte le altre aziende, perché comunque questo tipo di evento è un evento orizzontale che può interessare, incuriosire, qualsiasi tipo di azienda. La caratteristica è interessante, ma questo vale per tutti, non solo per magari le grandi aziende, come si pensa, è che tutto il fenomeno che abbiamo di fronte a noi, quindi il web 3, il metaverso, ma anche tutti i mondi collegati a tutta l'evoluzione digitale, sono estremamente interessanti. Sono interessanti perché ciascuno di noi può cominciare a essere un pochino o meno schiavo, consentitemelo, di questo mondo fatto di piattaforme che pur dannoci un sacco di opportunità, in realtà ci tolgono tante energie perché da questo ne devono guadagnarci moltissimo. E di colpo ci troviamo a essere noi al centro di nuovi progetti, nuovi progetti che possono coinvolgere altre persone che credono in quel progetto, che condividono questo progetto e che quindi permettono di fare tutti insieme qualcosa che oggettivamente è la logica di un'impresa però in una nuova vista, in una nuova visione del mondo e di questo mondo digitale che ci consente di guardare oltre. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione. Grazie.